Buongiorno e benvenuti a tutti e tutte a questa edizione di Prima Pagina. Oggi venerdì 13 settembre le notizie dei maggiori quotidiani nazionali e regionali le andiamo a guardare per scovare quindi quelle che sono le novità anche a livello politico, economico e sociale. Partiamo con Gazzetta del Sud, l'edizione di Cosenza. Ecco qui, Calabria, la regione vara un piano per la tezza età in aumento il numero di anziani. Mentre per quanto riguarda Cetraro siamo sulla Tirreno-Cosentino, pena definitiva 14 anni e 8 mesi e per Luigi Mutu, il figlio del boss storico re del pesce di Cetraro. Corigliano Rossano, servizi più vicini, nuova provincia, l'idea di stasi, miete, consensi nell'area interna, anche Longobuco ha aderito. Ed ecco qua la notizia d'apertura. Ponte, le risposte della Stretto. Aggiornato 800 elaborati progettuali, Ciucci investiremo sempre sull'ambiente. E leggiamo un pezzo di questo articolo. Nuovo passo verso la realizzazione del ponte. La società Stretto di Messina ha consegnato la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione via VAS, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura, e le risposte alle osservazioni presentate dal pubblico e delle associazioni. Si conclude nei tempi previsti, così, la fase avviata ad aprile. A fronte delle 239 richieste del MAS e delle 11 del MIC, aggiornate oltre 800 elaborati progettuali, anticipando studi che si sarebbero svolti in sede di progetto esecutivo, si dice soddisfatto la di Pietro Ciucci. Abbiamo investito e investiremo molto per l'ambiente e la sostenibilità dell'opera nella piena consapevolezza della complessità degli ecosistemi e dei territori coinvolti. Precauzioni e metodologie realizzative fanno del progetto del ponte un'opera all'avanguardia nel rispetto di ambiente e paesaggio. Mentre la fotonotizia è Cosenza-Guccione contro tutti e il to contro chiuto. Si parla appunto dell'avvio della festa dell'unità a Cosenza, che terrà banco fino al 14, fino a domani nella città Abruzia. Il dibattito sulla sanità infiamma la festa del PD, è l'articolo a firma di Mafalda Meduri. La festa dell'unità si accende subito a Cosenza, è bastato il format sulla sanità per scatenare il confronto in largo carratelli, dove si svolge la manifestazione. Guccione ha attaccato i manager di Aspe e Aho, che erano presenti. Il leader regionale del PD si è limitato al solito passaggio del suo governatore, il commissario Roberto Chiuto, la cui gestione è stata sonoramente bucciata. E a riguardo pregherei il nostro regista Luca Chito di mandare l'intervista e il servizio fatto da Anna Franchino, proprio su Nicola Irto e sulla festa dell'unità. Il senatore e segretario del PD calabrese Nicola Irto ad aprire la serie di dibattiti della festa dell'unità di Cosenza, iniziativa fortemente volute come momento di condivisione, anche per affrontare molteplici problematiche. Un segnale di mobilitazione forte, di discussione, di impegno, anche di confronto con i cittadini, perché il tema della raccolta firme è un patrimonio straordinario che stiamo verificando, del quale dovremo fare tesoro nel prossimo futuro per costruire anche in Calabria un'alleanza larga, forte, alternativa alla destra, quindi siamo molto contenti di questo. Poi seguiranno altre iniziative dopo settembre, non anticipo nulla, però qualcosa voglio dire, faremo un'iniziativa nazionale sulla montagna ad ottobre, insomma un partito che vuole tenere il passo lungo in Calabria con delle iniziative di confronto con gli amministratori, con i cittadini, con la società calabrese. Poco distante scorgiamo il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Domenico Bevacque. E al segretario chiediamo cosa ne pensa delle fibrillazioni all'interno del partito. Si sono fatti interni, territoriali, io credo che queste feste, questi dibattiti servano per parlare ai cittadini, non servono per parlare a noi stessi. A noi stessi lo faremo, lo facciamo quando convochiamo gli organismi, lo facciamo spesso, siamo un partito plurale, diverso, veniamo da storie anche complesse, diverse tra di noi. Abbiamo il più grande partito italiano che fa queste cose qua, gli altri partiti dove sono nel dibattito pubblico calabrese nazionale. Quindi questo non mi preoccupa, assolutamente non ci scalfisce, se ci saranno discussioni da affrontare lo faremo negli organismi. Le feste servono per rilanciare un'iniziativa e quest'anno accanto ai dibattiti lo straordinario risultato della raccolta firme contro l'autonomia. Sulla sanità dopo il confronto di ieri tra i componenti del partito e il direttore dell'azienda ospedaliera di Cosenza De Salazar, ecco qual è il pensiero di Irto. È bene confrontarsi, qui ci si è confrontati, a Reggio Calabria anche, ci si è andata dalla direttore generale. C'è un tema e il tema è che mai, come in questo momento, la sanità è così in basso, mai è stata così in basso la sanità calabrese, mai. La migrazione sanitaria aumenta, le liste di attesa aumentano, reparti che chiudono, medici che scappano, primari che si dimettono, mai così in basso, mai. Quindi è utile che il partito democratico sia in trincea, discuta, provi a risolvere i problemi. Una grande battaglia del partito democratico ha consentito la non chiusura del poliambulatorio di Gallico, che è un'importante struttura nord nella città di Reggio Calabria, che è la città più grande della Calabria, con una grande battaglia. Abbiamo risolto i problemi della sanità? No, bisogna stare sul pezzo perché ci sono anche capi di azienda, diciamo così, che non svolgono appieno le loro funzioni. O meglio, noi chiediamo che chi è deputato a governare la sanità nelle aziende sia libero da lacci e lacciuoli di politica e di partiti politici della maggioranza regionale e facciano scelte davvero per migliorare la sanità calabrese. Quindi la sanità al centro della festa dell'unità di ieri, che sta affrontando diversi temi, tra cui la città unica. E a riguardo, nelle pagine interne di Cosenza, leggiamo quello che sta accadendo tra, diciamo così, un botte e risposta fra il sindaco Caruso e il consigliere regionale Caputo. Città unica, il fronte del sì e l'affondo contro il sindaco. Ecco qua l'articolo di Arcangelo Badolate, del caposervizio di Gazzetta del Sud, redazione di Cosenza. Il consigliere regionale vogliono bloccare il referendum consultivo. Allora, la parte della circostanza che sia stata messa in piede da un gruppo di destra conferma l'interesse favorevole alla fusione di tre città sia trasversale a partite ideologie, questo parla appunto della nascita di un nuovo comitato per il sì. Ma soprattutto crediamo che la città unica possa essere un'occasione non solo per l'università e sanità rifiuti, ma anche e soprattutto per restituire slancio all'aria urbana e operare un rinnovamento. Intanto appunto scoppia questa polemica all'ennesima tra il sindaco Caruso, contrario alla risoluzione, tanto da aver mandato a due legali per ricorrere al TAR e la maggioranza che governa la regione. Caruso aveva mosso accusa al presidente Roberto Chiuso e adesso arriva puntuale la replica del consigliere Caputo, peraltro tra i primi sostenitori della città unica. Cosa dice Caputo? Il sindaco di Cosenza manca di cognizione della realtà e visione dei problemi della città, così da porsi quotidianamente contro qualcuno senza riconoscere i suoi limiti. Non c'è altra spiegazione. E poi riguardo all'operato di Caruso, lo ricorderemo tutti come il sindaco disfattista, oggi impegnato a smantellare piazze e piste ciclabili per dare spazio a strisce blu e traffico. Nessuna opera realizzata che porta la sua firma, tutti sanno che quanto ancora in itinere è frutto della precedente amministrazione. E poi risponde pure sull'incalzo dell'ospedale per la città. Ci sarà l'ospedale, una rete a trasporti unica e ramificata, nuovi e importanti servizi, ma si deve arrivare a ratificare la grande Cosenza. Con il referendum sulla città unica daremo a Cosenza, Castori Libero e Lè, rende una nuova opportunità e troncheremo il disfattismo del primo cittadino cosentino, dice Caputo. E dall'altra parte, sempre i DEM non pagano la tassa al comune. L'opposizione in calza, evento a costo zero. I consiglieri di minoranza dicono evidente il favoritismo del sindaco. Una festa dell'unità a costo zero grazie al buon cuore di Palazzo dei Bruzzi. La denuncia è sottoscritta dai consiglieri comunali di opposizione, Francesco Caruso, Cito, Di Polito, Dodaro, Luberto, Lucanto, Ruffolo, Spadafore e Spataro. E nella nota non manca l'ironia. Siamo lieti di apprendere che l'enorme massa debitore del comune di Cosenza, sempre agitata come uno sparacchio dal sindaco Franz Caruso, non era poi così ingente se la festa dell'unità organizzata dal PD cittadino potrà svolgersi senza il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. E queste appunto sono polemiche interne che fanno vedere quello che sta accadendo a livello comunale e non solo. Andiamo invece a livello nazionale. Che cosa riporta Gazzetta? La nomina stracciata Casa San Giuliano, il ciclono di boccia infuria ancora su Arianna Meloni. L'affaire San Giuliano quindi non è assolutamente ancora concluso, anzi ci sono degli strascichi, si sta cercando appunto di capire da dove sia nato tutto. Ci sono filoni all'interno dei movimenti e dei partiti che danno colpo oppure pensano a un complotto. Cercano appunto di capire da dove nasce il filo e di sbrogliare quindi questa matassa. Ecco qui, Maria Rosaria Boccia non molla la presa su Arianna Meloni, alimentando così i sospetti che il vero bersaglio possa andare oltre l'ex ministro Gennaro San Giuliano. L'imprenditrice, dopo le rivelazioni Bianca Berlinguer, adesso nel mirino di Fratelli d'Italia, da lei sono parzialmente smentite e torna a parlare della presunta telefonata tra San Giuliano e la sorella della Premier che a suo dire potrebbe essere alla base della decisione di stoppare la sua nomina a consigliere del Ministero della Cultura. La domanda è sempre la stessa, scrive su Instagram. Come è stato possibile che un decreto di nomine sia stato strappato senza lasciare traccia? E qual è il motivo? È stato per un capriccio sulla moglie di San Giuliano? Perché c'era un'incompatibilità di curriculum? Perché c'era un conflitto di interesse con la mia azienda? È avvenuto dopo il dialogo con Arianna Meloni? Nel nuovo post, dunque, Boccia, confutando le prime tesi, sembra accreditare quest'ultima ipotesi. E poi, andiamo sulla parte dell'economia, BCE, tassi di interesse giù di 0,25 punti, muti a 25 anni, risparmio fino a altre 70.000 euro, inflazione, stime confermate. Come sapete, la BCE ha deciso di tagliare il tasso di interesse di 25 punti base e i tassi restano restrittivi finché necessari, adesso la Presidente Allagarda. Confermata la stima sull'inflazione per il 2024, mantenendola al 2,5. E poi, il monito di Mattarella, le vittime sul lavoro, un'offesa alle coscienze e anche un appello alle istituzioni. E andiamo invece, per quanto riguarda il campo dell'occupazione, disoccupazione ai minimi e record di occupata in un anno, più 329.000. Istat dice che, appunto, recupera il mezzogiorno. Mentre, una notizia che sta facendo discutere il liceo Made in Italy, parziale stop del Consiglio di Stato, in quanto non ci sarebbero affatto alunni. Andiamo invece sulle notizie di Spall, a Cosenza, appunto, lo scontro sulla città unica. C'è traro, intimidazione ai consigliere Iozzi, solidarietà bipartisan. Questa, appunto, è una notizia che è stata rilanciata sui social dall'ex sindaco Aita, dicendo, appunto, che facendo notare, appunto, che nelle ultime giornate sarebbe stato lasciato un coltello sulla tomba della madre e, appunto, di un componente dell'aggiunta guidata dal sindaco Cennamo. E, 18, ci sarà un consiglio comunale ad hoc. E la presa di mira, appunto, la cappella Cinematareale di Famiglia, un attentato che sarà al centro del prossimo consiglio. Dopo leggiamo nella pagina interna. Mentre continua la crescita, la Calabria trascina l'export del sud. Aceto, presidente della Col di Retti Calabria, migliorare la logistica. L'agricoltura, soprattutto il settore alimentare delle bevande, le produzioni del legno, del sugoro e della paglia, volano sui mercati esteri. E poi andiamo nella parte della CEI, che approva la scelta del governo sulla manovra. Nessun deficit nella manovra bonus per i fragili e le famiglie. Quindi, un'approvazione che incassa, appunto, il governo Meloni. Divieta assoluto di fare deficit. Meloni e Giorgerti hanno condiviso il diktat nel nuovo vertice del centro-destra. E nella strategia per arrivare a una manovra da 23-25 miliardi di euro, si punta sull'applicazione di un quoziente familiare per le detrazioni e la concentrazione delle risorse sui bonus per fragili e famiglie. Mentre, come avrete sentito, c'è la notizia che arriva dall'Ucraina, non solo di guerra, ma anche di caccia. Nel senso che viene perseguita la giornalista Stefania Battistini e il suo operatore. Tajani convoca alla Farnesina l'ambasciatore del Cremlino, sorpresi dalla decisione. Si è tanto parlato di questo messaggio scritto su X da Tajani che, appunto, definisce la questione singolare. Tajani, un uomo abbastanza moderato, un politico abbastanza moderato, tanto da scrivere quell'aggettivo e far pensare che la scelta, appunto, di Putin sia assolutamente da rivedere, tant'è vero che oggi è stato convocato, appunto, è stato convocato l'ambasciatore russo in Italia. Mentre l'ultima notizia in chiusura della prima pagina di Gazzetta del Sud, avanti su questa misura, aggressione ai medici, schillaggi, arresto in flagranza di ferita. L'articolo, la cosa di cui parlavamo ieri, la proposta di cui parlavamo ieri, appunto, è quella di penalizzare, di sanzionare queste persone che aggrediscono medici, o personale sanitario, infermieri, ossa, all'interno degli ospedali, con la flagranza indifferita e quindi una specie di daspo su cui si sta riflettendo. Andiamo sull'edizione Catanzaro, Crotone, Lamezia, Vibbo, sempre di Gazzetta del Sud. È Catanzaro che mantiene ancora la centralità, ossia la crisi al comune, stretta e decisiva su assessori, è intese nella foto appunto il sindaco Nicola Fiorito che si trova a dover risolvere questa sorta di crisi di maggioranza che sembra essere rientrata. Catanzaro, la richiesta di archiviazione e la morte dei tre fratelli Corasoniti per la procura fu una tragica fatalità, esclusi anche i difetti di pc e tablet. appunto ricorderete la morte di questi piccoli ragazzini in un incendio in una casa che si pensava fosse dovuta appunto a un pc e un tablet che avevano preso fuoco e dato fiamme alla casa. Catanzaro, l'OMG, lascia il centro, anche Sociologia sarà trasferito nelle aule del campus. Anche l'ultima facoltà lascia il centro città e si trasferisce nel campus universitario. Il rettore Cuda rassicura che presto ci sarà un'altra facoltà ma avverte servono servizi. Mentre la mezzia terme è incompatibilità al consigliere Pegna assolto da ogni accusa e il processo scaturito dalle denunce è presentata dal primo dei non eletti in consiglio comunale. E poi c'è la notizia sempre di Aceto. Andiamo a vedere cosa ci propone l'edizione di Reggio. Villa San Giovanni, sede dei carabinieri nell'ex plaza, arrivano i fondi. L'ex hotel in parte confiscato. Taurio Nova, delitto a scone. Secondo i giudici riscontro pressoché integrale per le accuse a carico dei tre imputati. Sono queste le motivazioni delle condanne. Mentre a Reggio Calabria, guerra di Gallico, è stradato il rumeno per l'omicidio di Francesco Catalano è accusato di aver partecipato all'omicidio eccellente di Francesco Catalano Cicciu Bombaloro, un rumeno di 35 anni, arrestato nel Regno Unito ed è stradato in Italia. Poi sempre a Reggio, operazione dell'arma contro l'inquidamento. Oltre 40 denunciate. L'operazione DEIP dei carabinieri contro l'inquidamento e la difesa dell'ambiente. 42 denunce e circa 80.000 euro di sanzioni. E vediamo un po' la notizia dell'approfondimento. Ecco qua, in Calabria, la strategia triennale all'esame del Consiglio regionale via libera in commissione. Di che si tratta? Un piano per l'invecchiamento attivo. Così la Regione investe sulla terza età. In Calabria, l'indice di vecchiaia galoppa più del resto d'Italia. A Raccaforte e del Greco, l'incidenza maggiore. Platì, il Paese più giovane. Leggiamo appunto quali sono le prospettive. Il piano elaborato dall'Aggiunta da attuazione alla legge regionale 12 del 16 maggio 2018 recante norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Si tratta, ha spiegato in commissione l'Avvocato Sara Lopress del Dipartimento Salute e Welfare, di un piano di indirizzo propedeutico alla realizzazione dei relativi futuri progetti. Anche per questo l'investimento complessivo resta da quantificare, fermo restando che le linee di azione del piano triennale sono comunque riconducibili alle tre dimensioni fondamentali lungo le quali si svolge l'approccio dell'invecchiamento. Formazione, socializzazione e inclusione. E leggiamo qua. I sindacati dei pensionati hanno acceso i riflettori sull'entità dei fondi necessari ed attuare la programmazione. Mentre, andiamo sull'articolo di Spalla, Fincalabra, romano nominato presidente, il chiudo punta sul coordinatore della ZESF, Zanfino e Notaro nella CdA, i vizzari componenti del consiglio sindacale. Per un'industria, la nomina di Giossi Romano consoliderà il ruolo strategico della società. E invece, sempre rimanendo per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla Regione, lotta alla povertà educativa, sprint sulle sezioni primavera e avviso pubblico dalla Regione. In continuità con l'iniziativa avviata dall'ex vicepresidente Giussi Princi e in stretta sinergia con l'ufficio scolastico regionale, abbiamo inteso riproporre l'avviso pubblico dedicato alle sezioni primavera per aumentare la diffusione di servizi e contrastare la povertà educativa. L'ha detto l'assessore all'istruzione della Regione Caracciola, è riferimento alla pubblicazione dell'avviso pubblico di prosecuzione e attività di nuove sezioni primavera per i bambini tra i 24 e i 36 mesi. E sempre per quanto riguarda Reggio, andiamo a vedere, ecco qua, all'ermo abbraccio con la patrona, padre Amendola, salire qui è qualcosa di unico che ormai si ripete da quattro secoli, una testimonianza di fede radicata nella storia di Reggio. Nell'assunto appunto, nella parte appunto che fa un breve riassunto di quello che è detto nell'articolo, il culto della Madonna della Consolazione a Reggio è antichissimo, si perde nella notte dei tempi. Dunque va inoltre riferito che giovedì sera nella sala conventuale padre Pietro Amendola ha preso parte a un convegno moderato da Pina De Felice sul tema origine e diffusione del culto di Maria a Reggio. All'incontro hanno partecipato l'artista De Marco, Franco Donato per gli interventi musicali, Angela Crea, per la lettura di poesie. Mentre per quanto riguarda Cosenza, l'abbiamo appunto già affrontato prima, andiamo a guardare la novità appunto della finanziaria di cui parlavamo prima, proprio per avere uno sguardo più ampio su quello che sta avvenendo. La partita varrà 25 miliardi, si punta su due direttive, l'applicazione di un quoziente familiare, una parola che sta girando nelle ultime ore, appunto questo quoziente familiare, per le detrazioni, i fondi concentrati sui bonus per fragili e nuclei. E che cosa succede? C'è il diritto assoluto di fare deficit, lo abbiamo detto, circa 5-6 miliardi, secondo le intenzioni dell'esecutivo, sarebbero destinate alle misure per contrastare la denatalità. Più è numerosa la famiglia, meno tasse si piagano. L'obiettivo di legislatura, scandito più volte dalla Premier, e il suo governo già nella manovra di un anno fa, nella delega fiscale, ha declinato alcune misure con un quoziente familiare. In questa direzione va il piano di Giorgetti per cambiare le regole delle detrazioni fiscali anticipato dal foglio alla vigilia del nuovo vertice, Palazzo Chigi. In dettaglio delle misure deve prendere corpo, è ancora in fase dello screening delle ipotesi, spiegano dal governo. Si valuterà anche quali hanno il moltiplicatore più alto. Stato allo studio anche l'eliminazione della possibilità per pubblica amministrazione di mandare in pensione i dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata, 42 anni, 10 mesi di contributi, una volta raggiunti i 65 anni, spostando così il limite a 67, come accade nel lavoro privato. Prima dei 67 anni, anche avendo i requisiti per la pensione anticipata, si potrà così continuare a lavorare sia nel pubblico che nel privato, senza che sia necessario via libera da parte dell'amministrazione e dell'azienda. E questo, mentre continua a parlare appunto i socialisti a fitto, cioè continua questa querella, oppure questa tira e molla sulla nomina di fitto, von der Leyen continua a mediare, arriva un'apertura al commissario designato dall'Italia. I socialisti a fitto si mostri più europeista. Il puzzle delle leghe per smussare l'asperità di sinistra, verdi e lineari. E anche in questo caso, ieri, in una intervista a Elie Schlein, appunto la segretaria del Partito Democratico, ha fatto capire che in realtà sia la nomina di fitto, però sia anche a delle ipotesi che non vadano a cozzare contro la maggioranza. Quindi si vengono a creare dei veri e propri slalom per questa nomina. Von der Leyen si invia quindi ad un weekend diverso di telefonate segnato da diversi nodi da sbrogliare. Il primo sta appunto nel convincere i socialisti a non annunciare il no affitto e quindi alla sua commissione, un minuto dopo che è martedì a Strasburgo, dovrebbe essere presentata la squadra. Ha qualche carta da giocarsi? La Von der Leyen, scrive Gazzetta, innanzitutto è chiamata a blendare il deleghe forte per la spagnola Ribera, che si appresta ad essere il punto di riferimento dei socialisti ai vertici della commissione. Alla missa, simbolo della transizione ecologica iberica, dovrebbe essere assegnata la potentissima concorrenza, ma non il clima. E poi ci sono appunto, aggiunge Von der Leyen, il presidente grazie alle forze pro-UE, e dunque non è comprensibile avere un vicepresidente esecutivo di ECR, ECR, appunto il gruppo di cui fa parte FITTO. E poi, in taglio basso, il liceo Made in Italy riserve del Consiglio di Stato. Al di là dei soli 30 studenti in tutto il paese, Val di Tara, il ministero va avanti. C'è la perplessità su quadro orario degli insegnamenti e specifici risultati di apprendimento. Leggiamo appunto l'attacco di questo articolo. Parte in salita il nuovo liceo del Made in Italy, che vede da quest'anno per la prima volta sui banchi 390 studenti in 90 squadra nord a sud. La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso alcune perplessità e sospeso il parere sul regolamento che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento al nuovo liceo. Tra le perplessità espresse dal Consiglio di Stato, si legge appunto, oltre ad aver acquisito il parere arrivato appunto ieri dalla conferenza Stato-Regioni, c'è proprio quello riguardante i costi, perché nella relazione tecnica d'accompagnamento non viene specificatamente precisato, si legge, che le disposizioni non comportano nuove o maggiore onere a canale della finanza pubblica. Inoltre, il Consiglio di Stato chiede di rivedere la formulazione relativa al rapporto tra approfondimento e sviluppo di coscienze e abilità. Insomma, non parte bene questa made in Italy, questa suddiceo made in Italy. E ricerciando in tema scolastico, ecco qua, cala in Calabria l'abbandono scolastico, ma resta più alto della media nazionale. Leggiamo appunto l'articolo a firma di Maria Teresa Fortunato, qua siamo sul quotidiano del sud, e cala in Italia l'abbandono scolastico e per una volta alla Calabria non è in controtendenza, a dirlo sono i dati Eurostat 2023 elaborati da Open Police e con bambini. Di questo però, questo approfondimento, parleremo tra poco dopo la pubblicità. Bentornati a questa seconda parte di Prima Pagina, collegati con noi Domenico Marino di Gazzetta del Sud e Martino Ciano, direttore di Radio DGS, Rete DGS, con i quali stavamo parlando appunto di un argomento che è alle porte, ossia la scuola e che fa sempre discutere con il caro Libri, ma non solo. Avevamo concluso la prima parte con i trasporti, con Domenico Marino che chiedeva appunto, sollecitava, se così possiamo dire, un intervento appunto anche nei trasporti. E mi rivolgo a Martino Ciano, considerando anche come è caratterizzata la Calabria con paesini arroccati e bambini che non hanno sempre facilità nella raggiungere le scuole e questo rischia ancora di più l'isolamento, quindi a volte i trasporti non sono garantiti. Faccio una premessa, non vogliamo dipingere una Calabria a fosche nere o ad ombre, però sicuramente far vedere e far emergere quelli che sono i problemi che stiamo riscontrando anche da diverse segnalazioni. Martino, che ne pensi al riguardo? No, è toccato un altro punto importante perché voglio dire, ci sono delle aree isolate, ci sono le aree montane anche degli stessi comuni che hanno delle grosse difficoltà anche perché lì ancora il problema anche se non vogliamo dipingere una Calabria a tinte fosche sono i collegamenti. Ci sono zone dei comuni che confinano sono all'interno del Pollino dove esiste un'unica strada che deve collegare 5, 6, 7 frazioni montane ricavata quella strada alla meglia appartenente ancora a una vecchia viabilità tracciata forse negli anni 70-80 quindi anche le caleggiate potrete poi immaginare che non tengono conto insomma di quelli che sono gli standard di oggi ma fosse quello il problema il problema è che c'è quest'unica strada che si va a collegare per le varie frazioni e rende tutto difficoltoso ci sono tante tante aree montane mi dispiace sempre fare il nome della mia tortora dove basta uno smottamento e quei bambini per una settimana restano a casa senza scuola senza tenere conto che hanno già un percorso di studi molto particolare perché molte delle scuole che si trovano in queste aree sono delle pluriclassi quindi vuol dire che stanno tutti quanti insieme e nella stessa lezione vengono fatte praticamente delle lezioni specifiche perché il bambino di seconda elementare si trova con quello di terzo di quarta e così via questo richiama a quello di cui parlavamo prima sia alla manovra e dintorni anche per la presenza di Domenico Marino ci focalizziamo sul titolo di Gazzetta del Sud appunto qua spinta alla natalità piano dei Giorgetti chi fa figlio pagherà meno tasse leggo un pezzo dell'articolo per magari dare una visione d'insieme meno tasse per chi fa figli il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia la proposta di agevolare fiscalmente la natalità non solo con l'intento di aiutare le famiglie ma con l'obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema economico la questione complessa il problema della denatalità riguarda sicuramente l'Italia ma tocca e impatta su tutta l'Europa un tema sollevato anche in passato il progetto stavolta sarebbe di cambiare le regole della detrazione fiscale a favore di chi sceglie di avere figli anche a costo di eliminare o rivedere le agevolazioni per chi invece non ne ha il tutto a prescindere dal reddito e poi aiuti alle mamme lavoratrice comunque uno degli obiettivi concreti della manovra sarà quello di rinnovare l'esonero contributivo destinato alle mamme lavoratrici estendendolo compatibilmente con le risorse anche alle autonome e questa è una proposta della ministra Calderoni Domenico Calderone Domenico qual è la tua opinione al riguardo la coperta è sempre corta come stiamo sentendo nei TG e leggendo sui giornali sì mi pare che il ministro è coltissimo addirittura nei giorni scorsi a chi lo tirava un po' per la giacchetta per diciamo interventi in vari campi io posso parlare anche da papà sono papà di due bambini piccoli la gioia di un figlio è una gioia che io auguro a tutti è una gioia inconmensurabile però accanto alla gioia per quello che c'è anche il bambino costa come sia come è inevitabile che sia quindi aiutare secondo me le famiglie che fanno figli è anche un discorso diciamo cicero produmosum è una cosa importantissima visto anche il calo che abbiamo nelle nascite di cui soffre anche la scuola visto che stiamo parlando di scuola sono anni in cui gli organici le iscrizioni dei primi anni sono in calo in calabria come nel resto d'italia per fortuna non stanno calando ancora per adesso i docenti perché si sta cercando di compensare il calo delle iscrizioni senza tagliare gli organici di docenti e personale amministrativo tecnico tecnico e ausiliare gli ATA però tra qualche anno sarà inevitabile anche questo per cui benvenga qualsiasi cosa di aiuto alla natalità e di sostegno anche alla famiglia permettimi che lo dica sostegno anche alla famiglia vedremo se questo non va ad intaccare i single come me però insomma questo andremo poi a verificarlo perché però sicuramente mi piace anche collegarmi a questo titolo l'inchiesta del quotidiano edizione del sud di Cosenza la Calabria senza occupazione prima per lavoro nero e precario nel 2024 aumentati gli infortuni ma i controlli sono quasi del tutto inesistenti il 30% dei laureati è in fuga sposato CGL serve la norma sul salario minimo leggo un pochettino un pezzetto quindi nel contesto di una Calabria già segnata dal reddito pro capite più basso d'Italia a fronte di tassi di invasioni fiscali e di economia sommersa più alti del paese di cui abbiamo trattato il quadro d'insieme che fotografa l'economia regionale riporta un altro problema strutturale che è quello del lavoro irregolare e precario e poi la Calabria è il tasso di occupazione più basso d'Italia ma avanti il più elevato tasso di lavoro nero sicuramente questi elementi vanno a inglobarsi anche a quelli dell'istruzione perché se non vengono garantite delle forme socioeducative formative insomma competenti e solide sicuramente si cade anche nel tranello di accettare dei lavori mi permetto di dire dei lavori non retribuiti o addirittura come accade sempre più spesso in questa regione ma anche in quelle della meridione di allontanarsi dalla propria terra è di emigrare Martino noi sulla costa stiamo vivendo adesso appunto la fine delle vacanze e i paesi che stanno per piombare nel letargismo come dico io quindi molti ragazzi e ragazze sono partite per andare fuori per ritornare a lavorare fuori Sì allora è desolante sempre sentire queste notizie perché di anno in anno si peggiora di anno in anno credo che aumenta il numero degli amici che poi salutiamo a fine a fine agosto inizio settembre perché tanti ce ne sono poi perdonami un attimo a me questo slogan che campeggiano oggi sui giornali del più figli meno tasse veramente mi ricorda un po' le premialità di epoca fascista davvero lo dico senza senza se ma ma per un semplice motivo ancora forse c'è l'idea che i figli a cui bisogna dare di sicuro i bisogni primari cioè mangiare i vestiti e così via però poi non si ferma lì e lo sa bene chi ha un figlio io non ne ho però basta girarsi intorno e sappiamo che ogni figlio ha altre esigenze anche perché queste esigenze questi bisogni che molte volte però vengono anche inventati dalla società che ci circonda guai se non vengono soddisfatti quindi partiamo da questo aspetto che forse bisognerebbe proprio cambiare l'idea e il concetto anche di famiglia ma questa è un'opinione personale poi per quanto riguarda il precariato in una Calabria dove diventa difficile qualsiasi cosa anche studiare e per fortuna io voglio anche citare moltissimi centri che ci sono sull'alto di Reno Cosentino conosco per esempio il punto luce di Scalea dove la povertà educativa viene contrastata quotidianamente e per fortuna c'è un centro che apre le porte a tanti ragazzi che davvero terminata la scuola resterebbero in mezzo la strada anche la strada è importante come palestra di vita però c'è bisogno di altro c'è bisogno forse di guide diverse poi per quanto riguarda la questione dei giovani che vanno via anche questo è un discorso vecchio con il quale ormai abbiamo fatto i capelli bianchi e io credo che l'unico modo per intervenire su determinate tematiche è prendere proprio di petto la situazione io ricordo un'intervista molto bella di Callipo in cui lui disse tranquillamente attenzione è vero l'andrangheta la criminalità tutto quello che volete ma il vero problema in Calabria è che i giovani e tanti padri di famiglia tante donne che poi si devono dividere tra lavoro e casa sono sottopagati non hanno nessun diritto e questo lo posso dire che io ho degli amici che se ne sono andati via di qui e dice sai che io ho risolto i miei problemi a 50 anni io a 50 anni non ho più almeno pensieri di un lavoro che è precario sottopagato che mi pagano quando decidono di pagarmi e così via certo conviene sempre sottolineare che ci sono delle realtà positive realtà aziendali e sempre su Gazzetta del Sud proprio per collegarci chiedo anche a Domenico una piccola riflessione e ieri insomma c'è stata la Lutec che engagerà altri 50 professionisti ma ci sono tante tante aziende qua vicino ma anche in Calabria che stanno investendo nel digitale e che stanno dando forme di lavoro appunto apprezzate e appaganti e qua leggo appunto fondamentale il ruolo dell'unica al polo mondiale di ricerca sull'intelligenza artificiale Domenico quindi c'è una possibilità di frenare questa emorragia ma sì io poi sono per natura ottimista quindi poi mentre parlava il collega io parlavo proprio a Franca Melfi per esempio che a cui spetta la lezione magistrale questa è la professore dell'anno accademico dell'unical che ha lasciato Pisa per tornare nella sua Calabria originaria di Oriolo un'aluminare della chirurgia robotica polmonare che ha scelto l'unical perché io sentivo un'intervista meravigliosa secondo me che faceva lei qui c'era un campus bellissimo enorme ho visto realtà simili soltanto nel centro d'Europa in America e con un cervello di ritorno un cervello pesante di ritorno che non può che non farvi sperare insieme a quello che sta facendo l'unical io penso che l'Università della Calabria sia una ricchezza straordinaria per questa terra che abbia permesso a migliaia di decine migliaia di ragazzi calabresi di studiare di formarsi di diventare ottimi professionisti oltre che realizzarsi culturalmente umanamente e che avrà delle conseguenze anche nei prossimi decenni in realtà straordinaria io penso che sia un bel sole se vogliamo dire in qualche in questo cielo che a volte dipingiamo in maniera forse troppo grigia sicuramente ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato ieri l'abbiamo anche anche il nostro direttore l'ha intervistata e aspettiamo di assistere alla sua lezione magistrale lunedì 16 all'unical anche un altro tema che sta tenendo un banco non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale sono le aggressioni agli operatori sanitari e si fa sempre più largo la possibilità sempre più estesa la possibilità di sull'arresto in flagranza di ferita leggo qua l'articolo di Antonio Ricchio dubbi sull'efficacia del DASPO che Fratelli d'Italia vuole introdurre per legge tra i medici c'è chi avrebbe richiesto il portodarmi per difendersi ecco qua leggiamo l'unica misura in grado di fungere da reale deterrente ragiona Filippo Larussa medico calabrese componente dell'esecutivo nazionale del sindacato ANAO è quello dell'arresto in flagranza di ferita così come previsto per chi è responsabile di atti di violenza contro le forze dell'ordine secondo tale istituto si considera comunque stata di flagranza con il quale sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocamente il fatto ne risulta autore sempre che l'arresto sia compiuto non oltre le 48 ore dal fatto qual è la vostra diciamo idea in merito Martino considerando che sul Tirreno sembra che stiamo abbattendo una scura ci sono ospedali che addirittura non riescono neanche a funzionare ma questo poi ne parleremo in seguito parlando di aggressione ne abbiamo viste e sentite tante sul Tirreno e non solo eh sì ne abbiamo viste e sentite tante io sono convinto che davvero i controlli devono essere vanno aumentati ora partiamo dal fatto che comunque non si riesce a garantire l'ordinaria sicurezza perché c'è un numero esiguo di forze dell'ordine eh durante per le strade e figuriamoci se dovessimo mettere un eh un tutore della legge per ogni eh presidio ospedaliero più di uno quindi diventa complicato come eh come discorso eh sinceramente mi trovo spiazzato di fronte a come si potrebbe eh gestire la situazione mh è vero che però anche sul Tirreno Cosentino molti infermieri hanno a volte paura di fare determinati eh determinati turni perché quando si trovano eh alcuni casi non sanno neanche come gestirli e quindi non so come come si può arrivare di certo la figura anche il DASPO cioè non so come dovrebbe come potrebbe eh funzionare qualcuno se ha bisogno dell'ospedale ha bisogno dell'ospedale voglio dire e quindi non complicherebbe ancora di più la situazione poi ci sono eh soggetti che se ne fregano del DASPO davanti agli Stati figuriamoci eh in un pronto soccorso bella l'ipotesi è di non erogare i servizi di assistenza sanitaria i servizi delle cure sanitarie per tre tre anni se non sbaglio tre mesi adesso il periodo preciso non lo so oppure la flagranza indifferita Domenico Domenico tu che ne pensi che vivi in una città in cui pure là vengono queste aggressioni sì io sono diciamo per cultura diciamo contro le forme repressive per risolvere problemi però negli ultimi tempi ci si è una serie di aggressioni al personale sanitario che fa riflettere e se il dottore Varuffa ha fatto questa proposta la fa dall'interno la fa dall'esterno come la stiamo facendo noi qui seduti nei nostri studi tranquillamente è un problema quello che mi preoccupa è la smitizzazione della figura del medico una volta anche nelle nostre realtà i medici facevano spesso politica perché erano quelli che avevano un consenso enorme il medico era rispettato considerato adesso no adesso quasi quasi come se un medico avesse l'interesse a sbagliare un intervento nei confronti di domenico per farlo per farlo per farlo morire mi preoccupo questa smitizzazione completa anche della funzione del medico così per esempio visto l'argomento del giorno quella del docente e quindi l'aggressione poi è figlia di questo poi capisco il dolore la sofferenza i casi di malasanità non mancano perché altrimenti saremmo sciocchi più il contrario però ogni giorno adesso a quest'ora alle 12 14 e 20 del 12 quanti casi ottimi stanno svolgendo gli ospedali di Cosenza di Cassovilla di Corigliano Rossano e non ne parliamo noi cronisti poi capita che avviene un caso negativo e se ne parla questa è una legge della stampa vecchia come il mondo però non si capisci io sento molto il disagio raccontativamente il negativo e non tante le cose buone e lo stesso medico che magari domani sbagliare un intervento e proverà un danno a un paziente è quello che oggi ne ha fatto 5 persone che ti mandi bene un docente sbaglia una lezione un giornalista sbaglia un titolo insomma mi preoccupo in generale questa cioè cambiare una narrazione non avvolgerla solo al negativo e questo potrebbe anche rinfrancare rinsaldare la fiducia tra virgolette dei calabresi e frenare quell'emorragia e l'emigrazione sanitaria anche da questo punto di vista non è che ce la caviamo bene nonostante qui ci siano dei professionisti eccellenti e lo stesso allo stesso ritorno di una illustre di un illustre medico come la Melfi dovrebbe far riflettere vero Domenico? Sì sì io noi abbiamo raccontato l'emigrazione sanitaria tantissimo per esempio qualche settimana fa l'associazione Gianmarco Di Maria che come sapete si occupa da 20 anni a più di 20 anni dell'oncologia pediatrica raccontava quante famiglie che sono costrette ad emigrare affinché i figli possano essere curati in maniera in maniera adeguata poi sono anche strutture di eccellenza a Catanzaro a Cosenza che curano queste patologie la Calabria soffre male antichi io penso che come dicevo prima sono un ottimista per me cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno vediamo che se la Melfi con questa facoltà di medicina straordinaria che nascerà all'unica che si affiancherà a quella altrettanto importante che ci c'è già da tempo a Catanzaro possa aiutare la sanità calabrese a fare un passo in avanti uno scatto in avanti due poli accademici la poli sanitaria mi fanno ben sperare così importanti poi come quello di Catanzaro e come speriamo sarà quello di Cosenza quindi una visione più ottimistica che fa da contraltare se ben conosco quella di Martino Ciano che non è che è negativo però insomma diciamo che cerca di trovare sempre delle notizie differenti Martino tu in un'ultima battuta prima di lasciarci com'è la situazione questi medici sì ci sono ma soprattutto almeno per quanto riguarda le sollecitazioni che riceviamo è anche la mancanza a volte di empatia tra le corsie degli ospedali senza nulla togliere senza generalizzare però a volte capita di trovare del personale sanitario che non è empatico nei confronti empatico o umano nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie guarda permettimi un attimino anche di togliermi di dosso questa novea quasi che voglio soltanto dare gli aspetti negativi anche perché io anche quando ho avuto dei problemi di salute pochi per fortuna ma comunque ci sono stati mi sono curati in Calabria sono guarito sono seguito da dottori comunque calabresi che hanno sempre dimostrato una grande professionalità e parliamo di sistema pubblico e quindi non mi posso assolutamente come tanti lontano dal cliché di Martino Ciano negativo ecco quindi lo sgomberiamo del tutto la prima cosa è come me ce ne sono davvero davvero tanti sul fatto della mancanza di empatia sì però mi rendo anche conto e non riesco neanche a puntare il dito contro medici o infermieri perché come diceva giustamente il collega ti trovi tante volte di fronte persone che vengono con il telefonino e che già ti danno la loro già hanno la diagnosi già sanno quello che hanno e quasi il medico deve essere un esecutore pensate voi purtroppo succede così come succede ai docenti perché ormai abbiamo questo mito del sapere tutto con pochi click e mi rendo anche conto che tanti medici sono davvero sfiniti e l'errore incappano negli errori anche perché se tu lavori con orari massacranti con pressioni massacranti perché lì è il vero problema in Calabria si possono fare tutte le riforme che si vogliono sulla sanità si possono investire nelle infrastrutture tutto quello che vuoi ma se manca il medico manca l'infermiere non puoi fare nulla e questo è il caso che noi abbiamo all'ospedale di Praia Mare dove ci sono comunque dei medici degli infermieri che ogni giorno lottano con la carenza del personale e che quindi non riescono a far quadrare le cose perché ci sono stati casi in cui davvero hanno salvato delle persone prendendole dai capelli con pochissimi mezzi quindi io sono sempre vestio ci sono i casi non è che non ci sono stati e c'è anche il nulla facente però mi vendo conto che lavorare e fare il medico fare l'infermiere in Calabria è davvero difficile parlare anche degli OS che svolgono una funzione importante è fatto bene a rimarcare la solitudine di questi professionisti che lavorano in determinati ospedali in determinate condizioni non è un caso che anche le comunità di assistenza insomma le ex guardie mediche vadano deserte perché i medici non non accettano non accettano non accettano riescono ad accettare l'incarico proprio perché non si sentono tutelate aggressioni anche in quel caso ce ne sono ma tutelate anche a livello economico io purtroppo devo salutarvi vi ringrazio ringrazio Domenico Marino e Martino per essere stati con noi per i preziosi contributi a questa prima pagina e do appuntamento ai nostri telespettatori e telespettatrici alle 14.30 quindi fra una manciata di minuti per il TG10 condotto dal direttore Attilio Sabato e ci vediamo domani con la prima pagina dalle 13.30 una buona giornata a